Evaristo o Aristo. Nato a Betlemme e non si conosce l'anno di nascita. Morto a Roma nell'anno 106 o 108. Nato a Betlemme da una famiglia ebraica ellenizzante, si convertì al cristianesimo a Roma. A partire dall'anno 96 o 99 resse la diocesi romana in sostituzione di Papa Clemente I, ordinando diversi diaconi e presbiteri che lo aiutarono nelle celebrazioni liturgiche. Dal momento che Clemente I è morto martire prima che il pontificato di Evaristo fosse terminato, non ci si pone problemi nel considerarlo un pontefice. Resta in dubbio se inserire nel computo degli anni di pontificato del V Papa quelli precedenti al martirio di Clemente I. È falsamente attribuito a lui l'inizio della benedizione pubblica dei matrimoni dopo la celebrazione civile, in quanto questa consuetudine della Chiesa Latina è successiva. Anche il martirio di Evaristo non è storicamente provato, nonostante in quegli anni vennero attuate persecuzioni a danno dei cristiani. Morì a Roma nell'anno 106 o 108.